dai che è andato su a occhi chiusi no seconda quando cai lo sai no è troppo lunga la tua riprende ma questa qua non la riprende più ma che ti filmi bravo hai fatto bene vai Franci dai bravo lì non fa niente l'hai fatta dai dobbiamo scendere dai dobbiamo scendere stiamo giù non sono mica scesi da quella brutta non sei sceso da quella cattiva da là che arriva quel della cattiva ah no l'ha tagliata anche lui stai indietro stai indietro col culo guarda che adesso arriviamo su c'è una curvetta stretta dopo ci sono solo tornanti da guidare vai giù dritto cosa sei qua a fare qua ma se tu fai giro fai giro sotto vabbè ormai vai 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 Teresa ma infatti non 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 ma ma Grazie a tutti. Siete contenti? Adesso vi faccio fare la discesa. Cosa volete di più? E' bello. Perché andare al pozzo non si può più perché è troppo sporca e non ci voglio pulirla. Peccato. Quindi arriviamo lì e andiamo giù sotto. Io ci tenevo ad andare al pozzo. Dai muoviti. Muoviti con quel cesso lì. Andiamo a un po' di fumo che va. Di qua vai al pozzo. Andiamo a un po' di fumo. 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 Papi mi ha buttato giù dalla discesa. Papi mi ha buttato giù dalla discesa ma ha ruzzato. Bastato. Oh quel cazzo ruzzi. Hai visto come sei partito? Figaro. Senta l'ora. Vuoi vedere come è partito? Vuoi dire no? Cioè mi stavo impostando. Vuoi vedere io? Già arrivato? Ma che non possiamo però andare a vazzia. Perché sicuramente vengono giù a piedi. Vengono su di qua. Scendiamo ma poi torniamo indietro da qua sotto. Perché di là sarà. No perché di là.